No, ecco qui, ecco qui, poi c'è anche la corda che era questa qua, va bene ho capito, ok va bene dopo questa figuraccia, se Max hai il piacere di seguirmi e lasciare il nostro amico e collega da solo per qualche attimo, vorrei farti vedere come si riproduce il beccacino